ragazzi allora questo video che sono strato di giovedì esce di venerdì mattina verso le due e mezza più o meno e siamo sul secondo episodio di ricudo news in questo episodio di ricudo news andiamo a parlare come avete visto nell'intro delle offerte che ha messo playstation per natale dei suoi giochi quindi direi che c'è poco da dire perché tutti quanti voi penso che conosciate bene o male offerte di natale per quanto riguardano giochi playstation io stesso mi sono informato per quanto mi riguarda però dei giochi che mi interessano a me e mi arriva l'offerta del season pass di battlefield 1 che prima stava a 50 ma l'anno abbassato a 30 e comprende the show not pass e in the name of the tsar e in più mi faccio pure l'abbonamento di tre mesi che mi a me mi era scaduto e quindi sono 30 più 30 ovvero 30 l'abbonamento e 30 l'offerta del season pass oppure mi comprerò probabilmente rainbow six age che l'hanno abbassato a 15 euro e 50 prima stava 30 avuta l'altro avoremo six age era comunque già abbassato di su l'hanno implementato ancora a 15 euro perché prima che stava 25 30 euro più o meno comunque un grande salto di prezzo ci sta tra 15 e 30 veniva quindi c'era di differenza ci sta domani uscirà dopo domani sabato uscirà un video su questo nuovo telefono qua è un lg non vi dico niente su questo lg ve lo faccio solamente vedere è un po all'antica si apre e si chiude così vabbè comunque noi ci trasferiamo sullo schermo del telefono così vi faccio vedere le offerte eccoci qua la prima cosa ci sta a dire l'articolo è molto lungo quindi non mi dilungherò troppo perché riguardo questo articolo come dire i creatori dell'articolo in pratica hanno messo le loro impressioni persone non ce le metteremo a leggere ci metteremo a leggere direttamente le offerte questo è il titolo questa è una nota quindi non ci interessa ecco questo nemmeno ci interessa ecco qua l'articolo offerte natale giochi ps4 raccoglie una serie di consigli per indirizzarvi al regalo di natale più adatto alle vostre esigenze le idee di regalo anche troverai rappresentate una ristretta selezione dei migliori prodotti selezionati durante l'anno e delle offerte di natale più interessanti questa è l'introduzione poi abbiamo prima di iniziare questo non ci interessa offerte dei giochi ps4 se siete in possesso di una ps4 sia essa in versione slim o pro una delle idee di regalo per questo natale più gettonate è sicuramente l'acquisto di una serie di una degli ultimi giochi ps4 rilasciati sul mercato in questo periodo infatti sono stati lanciati diversi titoli molto attesi dal pubblico ma potete cogliere l'occasione anche per recuperare qualche titolo di prima fascia che vi siete lasciati sfuggire nei mesi precedenti magari anche approfittando di qualche offerta all'ultimo momento vediamo dunque le offerte natale ps4 poi abbiamo i best buy fifa 18 l'ultimate team poi qua in briga vi spiega un poco come già su ps4 pro potete leggere lo stesso voi non mi dilungo troppo questo è il gioco l'offerta del gioco sta a 51 euro al posto di 69 euro comunque è un buon salto di 20 euro più o meno ma poi levando l'uno su 50 euro poi abbiamo assassin creed origins riporto via un'incredibile avventura nell'affascinante landa dei soli deserti dell'egitto chi l'ha giocato conosce già la trama e poi abbiamo però questa limited edition sta a 50 euro buono poi abbiamo crash bandicoot per i nostalgici che stava 40 euro e ora sta a 32 euro grande poi ecco qua come vi ho detto io pure all'inizio god of duty world war 2 poi dall'altro ho seguito la storia di johnny click io eccolo qua sta a posti di 70 euro sta 60 euro wow che è discesa poi abbiamo saurso battlefront 2 vedete che in questo gioco ci sta anche la storia ah questo è meglio 40 euro poi abbiamo gran turismo e nade for speed payback allora gran turismo sta a posti di 75 euro 40 euro poi abbiamo nade for speed payback 50 euro al posto di 70 euro queste invece sono le prenotazioni per le prossime uscite ovvero quelle del 2018 abbiamo monster hunter world dissidia final fantasy nt sono troppo conosce di questo dissidia final fantasy nt perché di final fantasy mamma mia ho gioco da tanto lo ha detto mi spesso in tutti i film il prezzo di partenza di monster hunter world lenticular special edition sta a 70 euro poi abbiamo dissidia final fantasy nt playstation 4 70 euro questi sono le idee che qua però vi da il consiglio sulle console eccole qua infatti porta qua ps4 chassis ps4 pro ps4 pro ps4 slim migliori giochi ps4 ps4 pro versus xbox one s appunto direi che alla fine non ci interessa a noi quella delle console perché chi è che non ce l'ha anche accoccia delle offerte per trovare la console anche se però adesso sta quella di 250 euro la pressione 4 pro che comunque buona 500 gigabyte è meglio la mia addirittura ci sa 300 euro è la mia dedizione limitata un certo i 24 pensate un poco ah boh io chiudo qua come avete visto i giochi sono fifa crash bandicoot insieme in trilogy poi abbiamo growth duty world war 2 e altri giochi e altri giochi che me non ricordo poi abbiamo in più anche le offerte delle nuove uscite che poi a me ci sta un gioco in particolare che devo portare sul canale però è che non sto avendo il tempo ne andiamo a parlare più in particolare qualche altro giorno non so quando ed è un gioco stile anime e agli uova le impressioni miei personali niente purtroppo perché alla fine i giochi che interessano a me già stavano in offerta da un sacco di tempo però di qualche euro che so 15 20 euro al massimo che prima però costavano comunque 70 euro comunque però con il passare del tempo pieno di giochi si invecchiano e scendono di prezzo perché che so se ci sta un secondo capitolo dello stesso gioco allora si vende quello vecchio e si passa al successivo e alla fine c'è poco da dire dai e comunque spero che vi sia stato utile questo aggiornamento riguardo alle offerte e noi ci vediamo domani con un prossimo video ciao ragazzi